Ben trovati dalla redazione aquilana del TG di TV6 L'Aquila, in apertura oggi parliamo dei migranti perché all'Aquila è vera e propria emergenza riguardo l'accoglienza dei migranti. Infatti il centro di accoglienza di Piazza d'Armi, quello dove risiede anche la mensa di Celestino, cosiddetta dei poveri, in cui sono ospitati 40 migranti rifugiati, non riceve fondi da 4 mesi. L'appello di Pierino Giorgi, responsabile del Movimento Celestiniano dell'Aquila, nel servizio di Filippo Tronca. Ci sono dei ritardi di pagamento di circa 3-4 mesi. I disagi sono chiaramente individuabili nel pagamento delle bollette, del gas, dell'energia elettrica e tutte le cose che servono per questi ragazzi, che sono 40. E' il crido di allarme di Pierino Giorgi, responsabile del Movimento Celestiniano dell'Aquila, che gestisce il centro di accoglienza di Piazza d'Armi, in cui sono ospitati 40 migranti rifugiati, in buona parte nigeriani, all'Aquila da più di un anno, a cui si sono aggiunti nel tempo persone provenienti da Pakistan e Bangladesh. Dalla Prefettura dovrebbero essere già arrivati circa 100.000 euro, 38 euro al giorno, a migrante per 3 mesi. Il blocco non è chiaro se per ragioni burocratico o per mancanza di fondi, è a livello ministeriale. I soldi erogati per il servizio, tiene a precisare Giorgi, vengono spesi per garantire un'accoglienza degna di questo nome. Oltre a ricevere 2,5 euro quotidiani, i migranti frequentano corsi di lingua e di cultura generale, fanno sport e vengono riforniti di vestiario e altri affetti personali. Quello che c'è ne serve per pagare stipendi da 600 euro al mese a 5 collaboratori che si curano di queste persone, per pagare le bollette della struttura per finanziare la mensa di Celestino, frequentata da un numero sempre più consistente di poveri. Quindi non sono pochi, quindi un centro abbastanza, un'attività abbastanza onerosa. Noi spendiamo tutti i soldi per loro, non ci fermiamo alle 2,50 euro al giorno. Noi offriamo a loro anche i vestiari, le scarpe perché hanno attività anche ludico-recreative e quindi spendiamo tutti i soldi anche per queste attività. Giubileo e antiterrorismo, accordo tra procure e antimafia. Un protocollo firmato oggi all'Aquila proprio per il dialogo tra procura distrettuale antimafia abruzzese, procura generale e uffici giudiziari sul territorio con la direzione nazionale antimafia sul tema del contrasto al terrorismo, anche e soprattutto in vista del giubileo, essendo l'Aquila città marginale e quindi periferica della capitale. Antiterrorismo anche all'Aquila. È stato firmato un protocollo proprio stamattina tra la procura distrettuale antimafia abruzzese, la procura generale e gli uffici giudiziari sul territorio con la direzione nazionale antimafia sul tema del contrasto al terrorismo, anche e soprattutto in vista del giubileo straordinario proclamato da Papa Francesco nel quale l'Aquila potrebbe essere presa di mira come città periferia di Roma da parte di cellule terroristiche. Una task force, insomma, tra le procure antimafia per scongiurare qualsiasi attacco terroristico alla capitale in occasione dell'evento religioso di richiamo internazionale. Il documento è stato firmato all'Aquila alla presenza del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Per la prevenzione del terrorismo è fondamentale il coordinamento tra uffici perché non sappiamo dove si vadano a collocare le cellule terroristiche, ha detto il procuratore nazionale antimafia. Questo distretto è particolarmente attento e motivato e ha raccolto le indicazioni. L'Aquila è un modello e mi fa molto piacere. Il procuratore antimafia per l'Abruzzo, Fausto Cardella, ha ricordato che la procura distrettuale è stata inserita in maniera estemporanea dall'ordinamento e ora va cercando spazi e funzionalità. Non è sempre facilissimo, ha detto Cardella. Occorre molta disponibilità da parte di tutti. E veniamo alla cronaca. Il Tribunale del Riesame annulla la sospensione di Pirozzolo. è stata annullata infatti la misura cautelare di sospensione dell'incarico nei confronti del segretario generale del Comune dell'Aquila che ricorderete è stato inquisito insieme al funzionario Patrizia del Principe per presunti appalti truccati nel Comune dell'Aquila. Facciamo il punto. È stata annullata la misura cautelare di sospensione dall'incarico disposta dal GIP Guendalina Buccella nei confronti del segretario generale del Comune dell'Aquila Carlo Pirozzolo inquisito insieme alla funzionaria Patrizia del Principe nell'inchiesta su presunti scambi di favori e concorsi truccati per il tentativo di condizionare l'esito di un concorso per dirigente alla Casa per Anziani ex Ompi. Lo ha deciso il Tribunale della Libertà composto dai giudici Maria Carmela Magarò, Carla Ciofani e Mario Cervellino. L'appello al Riesame era stato presentato lo scorso 24 ottobre. Pirozzolo potrà dunque tornare a rivestire l'incarico delicatissimo di segretario generale. Esprime soddisfazione il presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti che in veste di avvocato difende Pirozzolo. È giusto che ogni attività comunale passi sotto la lente attenta della magistratura aquilana perché noi disponiamo di una procura molto attenta e di un tribunale di grandissimo valore. Credo che lo Stato italiano abbia investito molto in questa realtà perché ci sono magistrati di grande valore. Noi riteniamo che sia giusto. Per quello che mi riguarda credo che anche le inchieste è giusto che ci sono come ci sono in tutte le città. Siamo a un livello fisiologico, non bisogna avere paura delle inchieste. La magistratura lavora non per una parte politica ma per un interesse generale, l'interesse alla giustizia. Non bisogna mai avere paura delle inchieste. E rimaniamo a parlare delle inchieste sulla ricostruzione dell'Aquila. Giovedì prossimo gli interrogatori di Riga e di Mancini. Interrogatori di garanzia dunque per l'ex vice sindaco del comune dell'Aquila Roberto Riga e per il vice presidente dell'Aquila Calcio, l'imprenditore Massimo Mancini, indagati per corruzione e falso nell'inchiesta su presunte tangenti negli appalti per la ricostruzione. Sono stati fissati per giovedì prossimo, 19 novembre, gli interrogatori di garanzia per l'ex vice sindaco dell'Aquila Roberto Riga e per l'imprenditore Massimo Mancini, vice presidente dell'Aquila Calcio, agli arresti domiciliari nell'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila su presunte mazzette nella ricostruzione post-sisma. La nuova indagine coinvolge anche altre quattro persone eccellenti, l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli, all'epoca dei fatti titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, indagato a piede libero per abuso di ufficio in concorso con l'allora dirigente del settore ricostruzione privata del comune dell'Aquila, Vittorio Fabrizi. Altri due imprenditori sono stati interdetti dall'attività di esercitare imprese e ruoli direttivi in attività con personalità giuridica. Si tratta di Simone Lorenzini e Sandro Martini. Le indagini ruotano intorno all'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di ristrutturazione del complesso dell'opera salesiana Don Bosco, un affare da 28,5 milioni di euro, per il quale Riga si sarebbe speso per favorire la ditta Mancini. L'indagine parla di un giro di prestiti e mazzette e dell'acquisto di otto auto di lusso, tra le accuse che gli vengono addebitate anche quella di aver acquistato una casa presa poi in affitto da Mancini a un canone più che doppio rispetto a quello di mercato e l'acquisto di un'auto di lusso, attraverso un assegno, considerato pure questo corruttivo di un altro imprenditore che aveva numerose commesse. Riga era stato cacciato dall'Aggiunta Comunale nel gennaio del 2014, in contemporanea con le sue dimissioni, dopo essere stato indagato a piede libero nell'inchiesta su Tangenti nei puntellamenti post-sisma d'out to death. Riga e Mancini vengono rispettivamente ritenuti responsabili del reato di corruzione e di concorso. Il pubblico ministero del Tribunale di Roma, Giuseppe Dodato, ha chiesto sei anni di reclusione per l'ex rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila Ferdinando di Orio nell'ambito del processo per concussione nei confronti del docente dello stesso Ateneo, Sergio Tiberti. Il PM ha chiesto anche la confisca di alcuni alloggi di proprietà dell'ex rettore, in particolare ad Avezzano. Si tratta del primo di tre procedimenti a suo carico ad approdare al verdetto finale celebrato nella nona sezione del Tribunale di Roma dopo essersi originato all'Aquila. Sono oltre 200 mila euro in dieci anni i soldi versati a titolo personale. Questa è la quantificazione della concussione fatta da Tiberti nella sua denuncia del 13 settembre del 2009 in cui spiega di aver detto basta nel 2006 alle dazioni che gli venivano richieste proprio dal rettore sotto la minaccia di compromettere. In caso contrario la carriera accademica e professionale del docente di igiene dell'allora facoltà di medicina. E torniamo a parlare del caso dei progetti case dove sono crollati addirittura alcuni balconi. Oggi è effettivo lo sgombero di diversi appartamenti nella frazione di Arischia proprio per il crollo dei balconi. Una frazione destinata a morire, una deportazione di massa. Questa è la denuncia di un consigliere dell'amministrazione separata dei beni di uso civico proprio della frazione di Arischia. Allora sentiamo tutti i particolari. Il progetto case di Arischia frazione dell'Aquila verrà completamente sgomberato, decisione maturata all'interno dell'amministrazione comunale a seguito del cedimento strutturale di un balcone in una delle palazzine dell'insediamento di Cese. Praticare quello che a tutti gli effetti è paragonabile ad una deportazione di massa ha delle conseguenze che nel tempo potrebbero rivelarsi nefaste per la nostra comunità. È quanto afferma il consigliere di amministrazione dei beni separati di uso civico di Arischia Fabrizio Taranta. Ci saranno delle conseguenze gravissime per le persone che sono coinvolte a sei anni dal terremoto. Quest'ultime infatti si vedranno costrette a sconvolgere nuovamente le loro vite proprio nel momento in cui un certo equilibrio in quelle vite si è riuscito a ristabilire, denuncia il consigliere. È il caso di ricordare che parliamo di bambini che dopo il grave trauma subito hanno ritrovato nell'interno della loro comunità, nonostante le tante difficoltà, un ambiente ideale per vivere la loro vita di bambini con una scuola da frequentare insieme ai compagni di giochi e con i quali potersi ritrovare all'uscita e nei giorni di festa nella piazza, nel parco giochi e in tutti quei luoghi della frazione a loro dedicati. In un contesto in cui la ricostruzione e quella vera è ancora una chimera, rileva ancora Taranta, allontanare forzatamente e definitivamente decine e decine di famiglie dalla frazione di Arischia e qui varrà, come ogni probabilità, a decretare la fine della frazione stessa. Che fine faranno, si chiede il consigliere, la materna e la scuola elementare con un numero ridotto di bambini? Che fine farà il progetto per la ricostruzione della scuola elementare abbattuta? E il progetto per il centro anziani? Sarà ancora possibile mantenere delle attività all'interno della frazione? Ci sarà ancora qualcuno disposto a vivere in un paese privo di ogni servizio? Qui, da troppo tempo, sentiamo parlare di progetti senza vederne mai uno realizzato. Un omaggio alle origini siciliane del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' questo il senso della scelta dell'istituzione sinfonica abruzzese di suonare, oltre all'immancabile Fratelli d'Italia, all'intermezzo della cavalleria rusticana, durante il momento musicale previsto per la visita del Presidente della Repubblica, in programma all'Aquila lunedì 16 novembre, nella cerimonia di inaugurazione del nuovo Tribunale dell'Aquila, restituito alla città dopo il restauro. Per l'istituzione sinfonica abruzzese è davvero una bella occasione, tanto desiderata per ringraziare il Presidente Mattarella. Grande festa invece per i 40 anni del consultorio Aied in programma domani, sabato 14 novembre alle ore 16 presso l'auditorium Sericchi in via Pescara, dove si terrà un convegno proprio per celebrare la libertà come valore fondante dell'Aied. L'evento patrocinato dal Comune dell'Aquila vede un programma ricco di iniziative e la partecipazione anche di figure professionali e del mondo accademico che affiancheranno la Presidente dell'Aied dell'Aquila Alessia Salveme e il Presidente dell'Aied nazionale Mario Pugliatti. Si tratta di un traguardo importante, ha dichiarato la Presidente Salveme dell'Aied dell'Aquila, per la nostra associazione ma anche per tutte le donne e gli uomini della nostra città. Infatti il consultorio Aied dell'Aquila è nato nel 1975 sulla scia delle idee rivoluzionarie che l'Aied nazionale sosteneva già da oltre 20 anni. All'inizio del convegno verrà proiettato un video proprio per ricordare Donatella Tellini, cofondatrice del consultorio Aied dell'Aquila. Bene, con questa notizia termina il TG6 L'Aquila. Io vi ringrazio per la consueta e cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV6. All'inizio del convegno verrà un buon proseguimento con i programmi di TV6.